Caramella, cioccoletta e alpellide. Prendi tempo, prendici gusto. Giale 1 Mio padre. Ti accompagnerà a casa. Sono stati lontani tanto tempo. Troppo. Crede davvero di poter recuperare dieci anni in due o tre giorni? Ora devono imparare a conoscersi, a volersi bene. Non era così difficile allora. Cosa, signore? Ridere. Ma dovranno lottare con tutte le loro forze per restare insieme. Io ho già una famiglia e se vinco vero riprenderla. Sylvester Stallone. Over the top. Domani sera alle 21 su Italia 1. Buongiorno Jack. Una foto, per favore. Oh no. Non si parla con gli sconosciuti. E lo sto dicendo. Sono Connery. Sean Connery. E io sono Napoleone. Senza le nostre certezze, non saremo gli stessi. Russ ti aiuta a investire in un futuro in cui riconoscerti. Tutti vorrebbero avere i denti bianchi così. Purtroppo col tempo, alcuni cibi e bevande, il fumo, possono macchiare i denti. Ma da oggi può aiutarti Vivident White. Masticare regolarmente Vivident White aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti. Per un sorriso più bianco e una bocca più fresca, c'è Vivident White. Rughe. Rughe diffuse. Rughe profonde. Arriva Rugastir. La nuova crema antirughe scoperta dai ricercatori Labo. Rugastir. Moltiplica le cellule e stira le rughe. Rugastir per 4 gradi di rughe. Chiedi al farmacista il dosaggio di Rugastir per il tuo grado di rughe. Lorenzo 2002. Il quinto mondo. Dove ogni giorno che vivrò. 14 nuove canzoni. Ti sposerò. Il quinto mondo. Ti sposerò. Il nuovo album di Giovanotti. Quando tutto sembra essere perduto. Quando loro sono in sovrannumero più potenti e ti hanno incastrato. È allora che realizzi che la tua ultima speranza sei tu. Carta attiva Mastercard è una riserva di denaro per acquisti e prelievi di contante. Che si ricarica con comodi rimborsi mensili. Carta attiva di Aga Sita Finco. Dai il tuo spazio alle tue spese. Io ricamo. Ricamo l'allegria. Ricamo con la fantasia. Nuovo linee seta ultra. Filtrante ricamo. Vedi il ricamo? Questo non lo fa sollevare. Scompare nello slip. Questo non lo senti. Quindi non ci pensi. Nuovo linee seta ultra. Filtrante ricamo. La rivoluzione ricamata. E adesso scordatelo. Procero, procero, procero. Tu mi massaggi il plestore. Il procero. Sto cercando una donna. Io non sono quella che credico. Tu hai mandato a monte un matrimonio per questa faccia di culo. Quasi quasi vengo anch'io. Golden Lady When you come out the blue Golden Lady You make me feel so good You are the one You make me feel my sound Golden Lady I'm lies without you Golden Lady Grande amica Cosa rende il nostro Gruyère un formaggio tra i migliori nel mondo? È la Svizzera E la Svizzera la puoi trovare ovunque Formaggio Svizzero Il sapore della Svizzera Walking on the beaches Looking at the pictures Strolling along Minding my own business A Pasqua scegli Stream TV Il campionato e la UEFA Champions League Il grande tennis Il grande golf E il grande cinema Se ti aboni oggi Parabola Installazione Noleggio del Colder Unico Interattivo Te li paga Stream TV Abbonati subito Con Blockbuster Porti a casa la magia del grande cinema Sempre più film Sempre più copie Mesi prima della Pay TV Anche in DVD Perché nessuno illumina la tua notte Come Blockbuster Make it a Blockbuster night Scopri le ciglia che non credevi di avere Quelle nascoste negli angoli Da Maybelline New York Numero uno negli USA Nuovo Discovery One by One Con mini spazzolino cattura ciglia Da un angolo all'altro Sopra e sotto Non gliene scappa una Acrobatico Mini spazzolino maxi ciglia Nuovo Discovery One by One Da Maybelline New York Non la prima La seconda secca Gira a destra Poi li domanda Perché non mi ricordo Massimo Zucchini Quattro uova E mezzo chilo di carne tritata Bella magra Veloce che i negozi stanno chiudendo Ah senti adesso non mi vado a uscire Ma perché non ci facciamo portare due pizze Signora Aspetta faccia una telefonatina Eh certo Da quando sai che la sera costa poco Vero? Dal primo febbraio con Telecom Italia Dopo le 18.30 Le interurbane costano il 47% in meno Come nel weekend Quando le portano ste pizze? Tra due mesi e mezzo Calde arrivano Che valle Italia no I ragazzi di Saranno Famosi Continuano la scalata verso il successo Vota il tuo preferito Leonardo Dennis Valeria Antonio Marianna Alessandro Claudia Andrea Renato Maria Pia Antonella Ermanno Monica Chi parteciperà alla prossima sfida Saranno Famosi Martedì alle 21 su Italia 1 Remember 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 Rain Woo 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 Woo